Cominciamo con le famose clausole di salvaguardia, un governo nato per eliminare le clausole di salvaguardia, abbiamo eliminato le clausole di salvaguardia. Come si fa a eliminare le clausole di salvaguardia e come è stato fatto anche quest'anno? Bene, ricordando che diamine sono le clausole di salvaguardia, sono una presa in giro. Le clausole di salvaguardia sono la finta, quella pantomima, quella delle ennesime balle che si fanno nel rapporto con Bruxelles e con l'Europa dove gli si dice che l'anno prossimo faremo un deficit più basso rispetto a quest'anno e quindi per dirgli questa cosa diciamo che ci inventiamo le clausole di salvaguardia. È una bugia, è un teatro, chiamiamola come vogliamo, tant'è vero che l'anno scorso c'erano le clausole di salvaguardia per ottenere questo risultato e quest'anno il deficit è più alto e quindi è chiaramente tutta una presa in giro. Basta evitare di dire all'Europa che l'anno prossimo facciamo un deficit più basso, poverini e così questo tipo e vedete che le clausole di salvaguardia non esistono più, spariscono perché sono semplicemente un'orecchia fatta alla pagina per ricordare, per far vedere che l'anno prossimo il deficit scende. Ma serve far scendere il deficit? Il deficit deve sempre scendere? Il deficit deve... ma scusate, ma questa è un'altra delle balle clamorose che dobbiamo tenere presente quando parliamo della legge di bilancio. Il deficit, al di là dei paragoni medicinali che sono stati fatti da autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza, il deficit serve in determinati momenti e non serve in determinati altri. Se si cresce del 5% non serve fare deficit. Se si è in stagnazione costante serve come fare deficit.